Se la strada è troppo trafficata si sceglie un percorso alternativo, un'opzione che però a San Giorgio in Bosco stava diventando un problema da quando di fronte alle code e al semaforo del quadrivio diversi camionisti sceglievano laterali della Val Sugana in quartieri residenziali. Dopo le segnalazioni dei residenti il sindaco Miatello ha quindi firmato un'ordinanza che vieta il transito ai mezzi pesanti superiori ai 35 quintali in via Aldo Moro, Spianà e Donatore.